Ciao a tutti ragazzi, siamo io Valentina e io Lorenzo e vogliamo fare questo video perché vogliamo candidarci per il Mass Factory che è un'accademia di arte e spettacolo dove giovani youtubers, molto siamo conosciuti, terranno delle lezioni per noi insomma che vogliamo intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo, recitazione e il mondo del web io ho 21 anni, abito a Bologna da 3 anni però sono calabresa e sono della provincia di Reggio Calabria e io ho 22 anni, vivo a Bologna, non ho mai cambiato città, sono nato qui noi già da più o meno da un anno facciamo contenuti su Youtube, pubblichiamo video di blog, challenge e altre cose di intrattenimento ci piace far divertire la gente e condividere questi contenuti con loro, quindi ci piacerebbe molto far parte di questo concorso insomma partecipare e intraprendere comunque un percorso di formazione per quanto riguarda la creazione di contenuti e crescere magari a livello anche professionale come opportunità lavorativa questo qui è il nostro video di presentazione, speriamo che vi piaccia e niente, noi aspettiamo una risposta e ciao a presto